Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Nel cuore della casa del grande fratello, Perla Vatiero si trasforma da concorrente silenziosa a regina determinata, sfidando Beatrice Luzzi in una battaglia senza esclusione di colpi. Dopo settimane di silenzio, Perla rivela la sua vera personalità, pronta a liquidare la regina assoluta Beatrice, è una mia sfida personale. L'atteggiamento di Perla è radicalmente cambiato, passando da una presenza di messa a un'esplosione totale di carattere. La diretta di martedì 23 gennaio diventa il palcoscenico di un faccia a faccia tra le due regine, con Perla decisa a prendere il controllo. La fanbase di Perla è in fermento, e la concorrente di Temptation Island vuole dimostrare il suo valore. Beatrice Luzzi, apparentemente spaventata, tenta una difesa poco credibile, ma Perla non si scompone. La sfida si accende sulle faccende domestiche, con signorini che scherza sulla misurazione della leadership attraverso i compiti domestici. Perla Vatiero dichiara, mi sento sotto una mitragliatrice, mentre Beatrice accusa, lei fa molto poco e quel poco che fa lo fa per finta. La lotta tra le due regine si intensifica, tra accuse di comando e controcomando, con Perla che afferma di non essere interessata a vincere, ma poi si contraddice. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti qui sotto.